Siamo orgogliosi di aver ospitato oggi in provincia i volontari della protezione civile che sono corsi in soccorso dei genovesi dopo le calamità di queste settimane. Allora abbiamo dato un piccolo signo di ringraziamento, il simbolo della provincia, il gonfalone, lo stemmino, in qualche modo dichiarando che per noi sono ambasciatori della solidarietà bergamasca. Siccome le istituzioni non possono soltanto ringraziare, anche se importanti, ma devono fare la loro parte, proprio oggi abbiamo annunciato che nonostante i tagli la campagna Fiumi Sicuri si farà e quindi il disestre del geologico a Bergamo avrà quantomeno un intervento che cercherà per una volta, come spesso è stato fatto in passato, di prevenire. Quindi ringraziamento da una parte, prevenzione dall'altra. Siamo contenti di avere vissuto una giornata di questo tipo in provincia di Bergamo.